File davanti alle farmacie, unici luoghi popolati in una città altrimenti fantasma. La quarantena di Casal Pusterlengo è diventato il volto pubblico italiano del coronavirus. Nel frattempo i politici in Italia e altrove hanno discusso della possibilità di sospendere il sistema Schengen che permette di viaggiare in Europa senza restrizioni per la Commissione europea. Non è il caso di chiudere le frontiere. Siamo di fronte a una situazione molto complessa e qualsiasi decisione deve essere basata su valutazioni del rischio, pareri scientifici e deve essere proporzionata. Per il momento l'Organizzazione Mondiale della Sanità non ha consigliato di imporre restrizioni né ai viaggi né al commercio. Intanto presso il passo del Brennero tra Italia e Austria è tornata alla normalità. Dopo che il governo di Vienna ha revocato il divieto temporaneo di traffico ferroviario. Qualsiasi sofisticato controllo del virus causerebbe notevoli interruzioni e non sarebbe pratico, spiega questo esperto tedesco. Com'è possibile pensare di controllare questo virus? Le persone diranno che sono in salute e poi attraverseranno il confine. Non penso che si possano attuare misure obbligatorie come misurare la temperatura o qualcosa del genere. Devono essere misure proporzionate con il livello di minaccia. Il coronavirus è ancora meno pericoloso dell'influenza o del morbillo che di solito gestiamo senza controlli alle frontiere. Il governo italiano sembra d'accordo e ritiene che non c'è motivo per una simile iniziativa. Un controllo temporaneo alle frontiere avrebbe un impatto devastante sull'economia del paese.